Buongiorno a tutti i tre, come state? Spero tutto bene. Quest'oggi non mi vedete su TradingView, ma bensì siccome sono una persona di parola e siccome vi ho sempre detto che l'obiettivo principale è far guadagnare voi e togliere un po' di denaro che passa da voi ai guru, sono qui in veste dopo aver speso tantissimo mio tempo personale perché ho creato un file Word di 6 pagine, tutto scritto da me, con ovviamente all'interno il software di cui vi ho sempre parlato. Questo software ovviamente avrà tutta una sua descrizione e vi spiegherò passo per passo anche con esempi pratici su come utilizzarlo. Per quanto mi riguarda io ovviamente non vi chiederò assolutamente un centesimo, ovviamente se ne cesterete come ci sarà scritto parlerò, ho parlato anche della VPS e come si utilizza e quale ovviamente vi consiglio e soprattutto perché vi consiglio quella determinata VPS, ma questo lo dovete leggere per voi, ok? Per conto vostro. Mentre per quanto mi riguarda adesso farò vedere un attimo come e cosa dovrete fare per ricevere il software perché ovviamente avendoci messo del tempo, lui la cosa che vi chiedo è una vostra, diciamo, un vostro like e un vostro supporto per far continuare queste bellissime serie dove chi lo sa mai forse in un futuro farò altri regali di questo genere. Quindi per arrivare a sbloccare quello che è il software vi basterà andare sul sito, ok? Questo è ovviamente TradingView, vi basterà andare sul sito, adesso apriremo una nuova pagina. Ok, ovviamente vi troverete in questa pagina qua. Qua ovviamente è creata da me, ok? Cioè con questo sito qua è il link. Vi basterà andare su bot.hft. VPS.hft ovviamente leggete prima il software, prima tutto il file word che ci sarà all'interno di questa cartella qua. Ovviamente voi andate a cliccare qua e vi si aprirà mega. Cos'è che succede? Vi chiederà la chiave di decriptazione, ok? Non so, la chiave per decriptare il file. La chiave, ok? State ben attenti a questo passaggio qua, verrà inserita direttamente su YouTube e sul mio canale Telegram, quindi seguitemi su entrambi i social. Non appena questo video raggiungerai 50 like, ok? Non appena arriveremo a 50 like voi mi manderete un messaggio, qualora io non dovesse accorgermi, e pubblicherò free, ok? Completamente gratuita la chiave. Non appena inserite la chiave potete scaricare il file, ok? Il file conterrà ovviamente il .exe del software, il word e ovviamente dei settaggi già creati da me per alcune tipologie di prop, ok? Quindi tutto, tutto completamente in maniera gratuita. Quando ci sono delle domande farò un video a riguardo, ok? Per quanto concerne l'installazione del software avviene come tutti gli altri software, quindi non ho fatto un video tutorial a riguardo anche perché non avevo tempo, ok? Di farlo, ma se vedrò che ci sarà necessità da parte vostra, sicuramente mi metterò a fare un video su come installare un software. E anche forse, ok? Anche lì, se necessiterete di questa cosa, farò un video su un passaggio di challenge in live. Questo ovviamente solo se devo ancora rifletterci quando farlo. Comunque è tutto scritto all'interno del word, quindi prima di fare qualsiasi cosa, vi chiedo gentilmente di fare qualsiasi cosa, leggetelo attentamente. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio che probabilmente sarà un trade recap, andremo a vedere un po' di varie cosettine interessanti, quindi ricordo a voi di lasciare sempre un bellissimo like, di seguirmi per non perdere tutti i vari aggiornamenti e non perdere i prossimi drop di software, mie strategie personali, mie aggiunte alla mia strategia in un futuro. Grazie, vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio.